Guardi Roberto, che bello! Io vorrei comprare il vestito. Mmm, molto bello, ma non abbiamo tempo. Pozzo tempo a comprare. Abbiamo... Ok, ok, andiamo. Buongiorno, buongiorno. Io vorrei quello vestito. Questo, sì. Ah, ok. Tutto fuori. Un momento. Qual è il numero? Tu numero? Piccolo. Piccolo. Per me. Grazie, Sani. Grazie. Oh. Come sto? Oh, molto bella. Grazie. Bellissimo. Perfetto. Ah, grazie. Ok, lo prendo. Oh, posso fare? Non cortesia, no. Non abbiamo cortesia a questo negozio. Posso fare, per favore. E si senta più. Ok. Grazie. Oh, grazie. Che sa? Oh, grazie. Giusto. Grazie. Grazie. Arrivederci. Bravo. Grazie.